C.E. Cirent, vendita e noleggio autovetture in via dei Marini Sottanta a Cava dei Tidreni. Al via una mini rivoluzione nell'organizzazione degli uffici comunali. Infatti l'amministrazione Selvalli ha avvalato un piano con il quale dispone la riorganizzazione degli spazi assegnati ad alcuni uffici e servizi ubicati nella casa comunale di Piazza Abbro. La novità principale riguarda il trasferimento dei servizi demografici e dell'anagrafe a Palazzo di Città che quindi tra qualche mese traslocheranno dall'attuale sede di Via della Repubblica. L'intenzione dell'amministrazione comunale infatti è quello di ripensare la dislocazione degli spazi e degli uffici presenti nell'ex Teatro Verdi anche con l'utilizzo dei saloni posti al primo piano e che fino a qualche tempo fa erano occupati dal Social Tennis Club. Invece gli spazi ubicati nell'ex Pretura di Viale Marconi, destinati in un primo momento ad ospitare proprio l'ufficio anagrafe, saranno concessi locazione alla società in house Metellia Servizi, che ha la sua sede nello stesso stabile. Il mutuo contratto dall'ente con la Cassa Depositi e Prestiti per finanziare i lavori di adeguamento della struttura dell'ex Pretura sarà utilizzato quindi per gli interventi da realizzare sul Palazzo di Città ed in particolare per l'adeguamento degli spazi restituiti al Comune e alle nuove funzioni, prestando attenzione particolare soprattutto ai problemi di accessibilità alle persone con difficoltà motorie e visive.